La Val di Sole è una valle adatta a tutti, soprattutto per quanto riguarda l'offerta bici, offre diverse possibilità di percorsi, sia dal più semplice per le famiglie come la pista ciclopedonale, piuttosto che percorsi più difficili o molto più impegnativi e divertenti per i biker più esperti. L'avvento delle biciclette elettriche poi dà la possibilità a tutti quanti di usufruire di questi servizi e di percorrere anche dei tracciati che sarebbero normalmente difficili per delle persone non allenate. Bastano pochi accorgimenti per godersi al meglio la propria vacanza e la propria gita in bicicletta e noi consigliamo sempre l'utilizzo di un casco, quello di rispettare comunque gli altri ciclisti e gli altri pedoni mantenendo sempre la destra e adeguando la propria velocità al percorso e alle proprie capacità e soprattutto quello di mantenere sempre una mano o un dito pronti sul freno. Grazie 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 Grazie